ciao e benvenuti in un nuovissimo video oggi vi farò vedere come fare il green screen che qua me la chiesto tipo così aspetta ora ti faccio vedere entri su youtube e poi tipo vai in un video o questo poi fai remix e in alcuni poi tipo vediamo questo questo qua poi questo qui poi fai schermo verde poi fine poi dopo metti qua grazie ciao e mi raccomando iscrivetevi perché mi ha detto la prossima tappa sarà ai diecimila bene allora questo messaggio lo leggerò con calma e cercherò di capirlo poi dopo voi che state guardando questo video dovrete iscrivervi perché così io so però una cosa ciao e non voglio assolutamente perdere questi mille iscritti quindi per favore lasciate like ed iscrivetevi ciao